Io fino ad ora sono stata in Brasile a trovare i genitori, io non ho visto queste cose in Brasile, guarda, credimi, scusate se dico questo se siete italiani, io non ho visto queste cose e parlo che è un paese del terzo mondo. E invece Figueiredo, brasiliana, 46 anni, da 23 in Salento, dove era arrivata per coronare un sogno d'amore poi svanito, ha scoperto che forse non è il Brasile ad essere un paese da terzo mondo, ma l'Italia, la Puglia. Due anni fa ha incominciato ad avvertire forti dolori agli arti inferiori alla schiena col passare dei mesi a diventare sempre più insistenti fino a farle perdere il posto di lavoro e che soprattutto potrebbero essere la spia dell'inizio di una possibile paralisi. Il medico specialista che l'ha visitata gli ha prescritto una risonanza magnetica con urgenza entro 72 ore, ma quando la donna si è recata al Vito Fazzi per la prenotazione si è sentita rispondere che la Regione Puglia non prevede un codice d'urgenza per indagare questo tipo di patologia, con la prima data utile a luglio 2015. Un momento all'altro rimango paralitica, che faccio? Una risonanza che non mi hanno fatto? Mi devo distruggere la vita mia a 46 anni? Che faccio? Inutile pensare ad una struttura privata tutta inaccessibile se non a pagamento e i soldi Figuereido non ce l'ha. Io se sapessi che dovevo finire così qui in Italia, avevo fatto già le valigie, mi avevo già andato.